I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli hanno sequestrato oltre 500 kg di cosmetici e farmaci illegali presso l'aeroporto internazionale Guglielmo Marconi. In particolare, i funzionali doganali e militari hanno controllato 11 passeggeri di nazionalità nigeriana, afghana, guineana, maliana, ganese e cinese, in arrivo dai rispettivi paesi di origine. I passeggeri avevano tentato di occultare nelle valigie oltre 11.000 prodotti, tra cosmetici e farmaci illegali, di natura antidolorifica e antibiotica. L'introduzione di farmaci nel territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco è vietata. Pertanto, tutti i prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale e i responsabili denunciati alla Procura della Repubblica Locale. L'acquisto di medicinali al di fuori dei circuiti ufficiali rappresenta un serio pericolo per la salute degli utilizzatori, poiché tali prodotti non certificati e non autorizzati dalle competenti autorità sanitarie possono essere alterati o modificati rispetto agli equivalenti farmaci originali, oppure contenere percentuali di principio attivo diverse da quelle consentite nel nostro Paese.